Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e ad uscirne viva, anzi non sarai neanche sicura che sia finita per davvero, ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscita da quella tempesta, non sarai la stessa che vi è entrata.